Tutti i giorni dovevamo passare, o lui o il figlio, comunque, poi ieri, l'ultimo, ce l'abbiamo visto ieri pomeriggio scendere giù col camion. La strada qua lo sapeva a memoria lui, perciò... Che persona era? L'unica cosa che si può dire è che è sempre stato un lavoratore e purtroppo è morto lavorando. Poteva essere una tragedia ancora più grave perché spesso su quel camion, in quella strada sterrata, non ci viaggiava da solo. Flavio Ghetti, classe 1950, titolare con il figlio Ezio dell'omonima impresa Edile, è precipitato stamattina con il suo camion lungo il fianco della montagna per decine di metri in una scarpata. Una dissestata strada di montagna che conosceva bene perché la praticava spesso per lavoro. E' deceduto sul colpo, era la guida del suo mezzo per il trasporto di ghiaia che per cause ancora in corso di accertamento è caduto nel dirupo mentre stava percorrendo la strada sterrata oltre quota a 1200 metri dopo il centro abitato di Traversella, vicino a Ivrea, nel Torinese, in Val Chiusella. Il vice sindaco che lavora nella cava di fronte ha visto la scena e ha immediatamente contattato i vigili del fuoco e i carabinieri che sono intervenuti immediatamente e il figlio, ma purtroppo non c'era nulla da fare. Ormai si era compiuto tutto quello che doveva compiersi, tristemente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ivrea, di Vico Canavese, i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, il personale del 118. I soccorritori hanno raggiunto la zona dell'incidente anche con gli elicotteri, operativo anche il drago dei vigili del fuoco. Ma per l'uomo trasportato poi all'ospedale di Ivrea non è stato possibile fare più nulla. Forse il conducente ha perso il controllo del mezzo. Ora sull'episodio indagano i carabinieri.